Da una parte c'è la necessità di cancellare gli ultimi nove anni e riparare i danni fatti dall'amministrazione di centro-destra, dall'altra quella di dare continuità ad un progetto di sviluppo vincente realizzato negli ultimi 15 anni. È il doppio obiettivo per Andria e per la Puglia che il centro-sinistra vuole raggiungere con la vittoria elettorale del 20 e 21 settembre. La marcia di avvicinamento al voto ha fatto tappa anche nella città federiciana dove il governatore uscente, candidato alla presidenza della regione Michele Emiliano e il sindaco di Bari nonché presidente del Lanci Antonio De Caro si sono dati appuntamento nella sede di Materia Prima per lanciare un messaggio verso il futuro. La Puglia ce la fa. Deve farcela la nostra regione perché abbiamo la necessità di continuare questo percorso e Andria può essere inserita in questo percorso di crescita della nostra regione. Sono passati 15 anni, siamo una regione diversa, siamo una regione conosciuta in tutto il mondo. 20 anni fa non era così. Oggi abbiamo i laboratori urbani, gli asili nido, abbiamo festival internazionali, aziende multinazionali che investono nel nostro territorio. Dobbiamo guardare avanti, questa regione non può tornare a 20 anni indietro. Un percorso di crescita, quello degli ultimi anni, che certo non è stato esente da errori tipo la gestione delle politiche agricole, ma è proprio da quelli che si intende ripartire verso una Puglia migliore. I ritardi dei bandi del PSR sono stati molto strumentalizzati dai nostri avversari, non abbiamo perso un soldo, non abbiamo soprattutto, non ci siamo persi d'animo, abbiamo solo perso l'assessore che aveva combinato i guai e se l'è preso fitto e devo dire che da questo punto di vista è l'unica cosa che ho condiviso della sua campagna elettorale. Noi stiamo già mettendo in pagamento le misure più importanti, quella della 4.2a, quella della 6.1, è stato un lavoro faticoso, ho dovuto fare anche l'assessore all'agricoltura, ho imparato molte cose anche dagli errori che abbiamo commesso, ma questa è una città, diciamo la verità, che quanto ad errori commessi dal centro-destra potrebbe aprire un'università. Una nuova pagina della storia amministrativa della città di Andria la vuole scrivere Giovanna Bruno in corsa per la carica di sindaco. Sono le comunità di persone che ce la fanno, che rialzano la testa, che vogliono ricominciare un percorso e vogliono farlo in rete. La regione, il governo centrale, i tanti ministri che si stanno affacciando, altri rappresentanti delle istituzioni, è una rete di persone che sta investendo su un progetto, quello di rivalutazione e di riqualificazione di una comunità che è stata offesa, di una comunità che ha perso la bussola, di una comunità che deve rimettersi in carreggiata e che deve farlo partendo dalle forze sane, dalle energie pure, della buona politica. Un progetto di rilancio da realizzare solo con il consenso delle urne. La partita elettorale si gioca su due tavoli, comune e regione, e il centro-sinistra è convinto di poterla vincere. Noi ci siamo, siamo presenti, siamo determinati, siamo tonici e siamo disposti e disponibili a scommettere tutto su questa partita, perché nonostante la partita sia complicata a livello regionale, noi abbiamo la necessità di esserci, di marcare la nostra presenza, la nostra presenza di qualità, la nostra presenza che afferma le ragioni della nostra comunità andriese, ma le ragioni di tutta la BAT. Grazie.